Cari milanesi e cari milanesi, un anno fa mi sedevo qui e cominciavo questa mia avventura da sindaco della nostra città. Ora, dopo un anno cominciamo a tirare un po' di somme sapendo che è un anno, è solo un anno, che il percorso è lungo ma anche che una buona impostazione la si deve vedere dall'inizio. Non sono alla ricerca di pagelle né di darmi una pagella, se qualcuno vorrà darmi la accetterò, ma il punto è che invece per me una cosa molto importante c'è ed è quella di, nel limite delle mie capacità, cercare un contatto con voi, con i cittadini. Lo faccio essendo in giro per la strada e ascoltando, lo faccio ricevendo email, faccio il possibile, ma il vostro giudizio mi interessa molto e sapendo che poi il giudizio sull'operato di un sindaco è legato a tanti e tali fattori che sono.